Buongiorno, buon lunedì, buon inizio di settimana e ben ritrovati per il primo appuntamento della giornata con l'informazione su Fano TV, occhio ai giornali dove guardiamo le notizie principali sui quotidiani in edizione locale, ma guardiamo anche che cosa ci dice il calendario e anche le previsioni del tempo per le prossime 48 ore. Allora iniziamo dal calendario, vediamo che cosa ci dice oggi per lunedì 4 novembre l'Almanaco, oggi è San Carlo Borromeo, il sole è sorto alle 6.44 e tramonterà alle 16.59. Previsioni meteo, previsioni meteo che per oggi sono all'insegna della variabilità, il cielo è poco o parzialmente nuvoloso con addensamenti più consistenti nelle ore montane della regione, come vedete dall'infografica non si escludono brevi e locali fenomeni, stiamo parlando della pioggia, delle precipitazioni, però sempre a ridosso dei rilievi come vedete anche nella cartina più che altro nella parte meridionale della regione. Le temperature sono in lieve diminuzione, rinforzati i venti rispetto alle scorse ore. Per martedì, quindi per domani, direi che perlomeno sulla costa il tempo non peggiora, rimane sempre sulla variabilità, il cielo parzialmente nuvoloso, addensamenti più consistenti però sempre nelle zone montane della regione dove vedete che però fa più presenza la pioggia, anziché soltanto nella parte meridionale della regione, tutto il crinale appenninico, collino montuoso della regione viene interessato da precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio e non si escludono neanche altri fenomeni isolati in altre zone degradando verso la costa. Le temperature sono in lieve aumento però riprendono. Questa è la previsione per le prossime 48 ore. Vediamo che cosa ci dice la protezione civile per i giorni successivi. Le condizioni di instabilità potrebbero permanere e anche nella parte centrale, fino alla parte centrale della prossima settimana. Quindi insomma è una settimana all'insegna della variabilità almeno dal punto di vista meteorologico. Bene, edizioni del lunedì, affogliazione ridotta come sempre per via del fine settimana, ampio spazio anche allo sport, la VIS e il Fano non sono andate benissimo, neanche il basket ha brillato, insomma nella nostra provincia lo sport è ancora in un momento così di contrappasso. Allora però guardiamo subito anche le notizie di cronaca, ma come vi dicevo ampio spazio allo sport, infatti la fotonotizia nel resto del Calina è tutto per la VL che è in sprofondo, sprofondo VL, va a K.O. anche a Treviso, Pistoia vince, ora è l'ultima però fanalino di coda. E qui il Fano crolla contro l'Arzignano, adesso è crisi nera, crisi profonda e anche la VIS, le solite sconfitte e rimontare è una chimera. Ma in testa di pagina c'è anche cronaca e manifestazioni, si parla della ruscella d'oro a Cucinelli e Uliassi, la fiera nazionale del tartufo d'acqua lagna e poi c'è un malore dopo la messa, siamo a Lucrezia domenica. Ma l'apertura del resto del Carlino è per la mensa dell'Oda che ora sembra che qualcuno gli stia tirando un salvagente, Cimas pronta a incontrare Curia e Comune, la Cimas poi vedremo chi è. Andiamo nelle pace del Corriere Adriatico, anche qui fotonotizia tutta per il Fano che la combina grossa, perde con l'ultima in classifica, l'Arzignano con un 0-2 pesantissimo in casa e ora ultimo in classifica con Limolese, quindi anche Sorpasso e anche la VL-KO Maglia Nera in solitaria. Ma l'apertura è San Benedetto, siamo a Pesaro, transennato i residenti senza parcheggi, la struttura del San Benedetto, mentre si chiede la verifica sulla stabilità del tetto, protesta chi abita in via Belvedere. Andiamo a vedere l'interno delle pagine, partiamo dal Corriere e l'Arresto del Carlino per quanto riguarda Fano. Raffaello si parla appunto di cultura, se quella del 2019 è stata legata al Cinquecentenario di Leonardo è stata una straordinaria occasione culturale e turistica per Fano, ma nel 2020 ricorre appunto il Cinquecentenario della morte di Raffaello Sanse. Quindi anche per Fano Raffaello rappresenta un'occasione irripetibile, il legame con l'opera di Vitruvio. La Lonely Planet, un best travel del 2020, raccomanda il percorso archeologico di Fano. Quindi insomma rendiamoci conto dei tesori che abbiamo e cerchiamo di valorizzarli sempre di più perché dall'estero ci guardano, ci osservano. Fano però continua sulle pagine del Corriere a parlare di welfare, welfare di comunità. Nasce Mamadre per donne che allevano figli senza un padre, una rete di protezione. La coordinatrice del progetto dice ufficialmente sono Novecento, nelle Marche in realtà sono però molto di più, c'è anche un sommerso in questo e quindi una cooperativa per le Mamme Sole nasce appunto a Fano. Andiamo nelle pagine, rimaniamo in quelle del Corriere Adriatico però che riguardano il San Benedetto, l'ex manicomio e ad ora a Pesaro appunto che veramente langue in pessime condizioni. Queste foto sono molto eloquenti dello stato in cui si trova, questo è tutto transennato e queste transenne praticamente da diverso tempo lì sono praticamente occupate negli spazi dove sono state collocate, negli spazi dove alle volte si parcheggiava e quindi i residenti senza più parcheggi mentre si chiede la verifica urgente sulla stabilità del tetto. Chi abita in via Belvedere che è appunto la strada che collega il centro della città con la zona degli orti giugli, sarebbe questa la strada, è impraticabile e quindi anche per marciapiedi accidentati, manto disconnesso, insomma è tra cantieri aperti e queste problematiche i residenti sono sul piede di guerra. anche l'amministrazione parla di altri fenomeni, Ricci Pano Domenica allunghiamo l'orario sulla panoramica, si parte dal 24 novembre, riapre strada Rive del Faro e a Borgo Santa Maria la situazione dei rondò che anche questa ha creato non pochi mal di pancia a residenti e utilizzatori, però su questo l'amministrazione non fa nessun passo indietro, non si cambia idea, i camion devono passare altrove e sabato si inaugura la caserma. Ancora nelle pagine di Pesaro l'ex sede del Renco è pronta ad accogliere gli appartamenti, il passaggio in Consiglio Comunale chiude l'iter della trasformazione urbanistica, questa è la sede del Renco in Viale Venezia che passerà a nuovo utilizzo. Il resto del Carlino, l'avete visto nel lunch, si parlava appunto della mensa dell'Oda, questa mensa che non è la mensa della Caritas, però comunque è una mensa che fa un servizio sociale perché ci si può mangiare a pochi euro per persone che hanno difficoltà e quindi però non versava in buone acque e allora c'è stato un summit degli amministratori anche con la Curia per vedere di fare qualche cosa, c'è stato anche un appello sulle pagine del resto del Carlino e pare che questo appello lo abbia raccolto questa azienda, la Cimas, che non è un'azienda da dopo lavoro, ma è un'azienda che prepara 15.000 pasti al giorno, ha più di 350 dipendenti, 50 mesi sparsi in 6 regioni e Dennis Sansuini di Urbani è responsabile commerciale di Cimas e ha raccolto l'appello, quindi entra in campo questa azienda, si vedrà presto con Curia e Comune per verificare appunto, come dice qui, le condizioni di questo salvagente per far sì che questa mensa non chiuda. E poi la guerra sull'omeopatia da scontro sul web si trasforma anche in scontro naturalmente sulle carte bollate, guerra sull'omeopatia e scontro con Burioni, l'odontoiata frenese del Gaiso attacca su Facebook, presto avrà le mie notizie e il virologo pubblica il post e replica una minaccia inaccettabile e qui vedete una foto del virologo durante una conferenza pubblica. Da Vallefoglia si parla di welfare, welfare di comunità e di nuove iniziative, la Fondazione di Ferdinando dice il welfare è una mission e domani la Presidente Panicali va a Vallefoglia, giovedì a Pesero per il bando annuale e quindi si parla di competenze e di cooperative che sono mirate all'accoglienza, di minori stranieri non accompagnati e l'inserimento lavorativo di questi nel tessuto sociale e infatti si presentano appunto in questa pubblica assise i risultati di questa iniziativa che si chiama Ti accompagno per l'inserimento di minori stranieri. Ancora nelle pagine che riguardano però l'entroterra principalmente Urbino, questo lungo ponte di Ogni Santi ha visto ad Acqualagna un po' il fulcro, il clou della manifestazione con la consegna della ruscella d'oro e ospiti di caratura nazionale come Neri Marco Re che vedete qui e questo è un momento invece al Teatro Conti in cui il guru del Kashmir Brunello Cucinelli ha ricevuto la ruscella d'oro, questa onorificenza che viene ogni anno consegnata dal 1966 dall'amministrazione comunale a personaggi che hanno una particolare storia meritoria e invece Neri Marco Re promette di ritornare, fa uno spettacolo al Teatro Conti che fa tutto esaurito e qui vedete due momenti della manifestazione. Che cos'è la ruscella d'oro? La ruscella d'oro è praticamente il vanghino, il vanghino con cui i cavatori estraggono dalla terra il tubero e quindi è un vanghino particolare e si chiama ruscella. Adesso io ve lo cerco e qui è una ruscella d'oro in miniatura chiaramente con questo nastro però è il vanghino dei cavatori. Questa onorificenza viene consegnata solitamente a uno chef ma quest'anno c'è stata una doppia consegna appunto come vedete qui anche nelle pagine del Carlino a Brunello Cucinelli e allo chef Tre Stelle Uliassi, protagonista anche di un cooking show ieri sera molto frequentato e grande successo per questa lunga fine settimana che ha visto tanti protagonisti ad Acqualagna. Ancora nelle pagine del Corriere Adriatico c'è cronaca però andiamo a Mondolfo per uno schianto nella notte dal rientro da un locale da ballo feriti quattro giovani coinvolti quattro ventenni su un Opel e una trentenne al volante di un Alfa tutti per lesioni leggere sono stati portati all'ospedale pronto soccorso il conducente poi che viaggiava da solo si rifiuta di fare l'etilometro e scattato quindi il ritiro della patente e la denuncia. A Senigallia andiamo vicino nelle nostre città limitrofe si parla di una storia abbastanza triste perché insomma oltre a piangere come si dice il caro estinto se questo poi non trova neanche la giusta collocazione il dolore si rinfonde e si rinverdisce l'oculo è occupato è finalmente libero ma poi il defunto non può essere spostato insomma una beffa dopo l'altra la salma sistemata in una tomba ipogea è bloccata da un'ordinanza del sindaco. insomma la vicenda travagliata di questo di questa salma e dei suoi familiari per i quali non c'è pace per il caro estinto della sua famiglia che chiede solo che questa vicenda si chiuda e che purtroppo il caro estinto riposi in pace. Da Iesi però la cronaca ci parla di furti in appartamento, cassaforte smurata e mobili spostati, shock per la proprietaria quando rientra nell'abitazione i malviventi sono entrati da una finestra utilizzando l'ormai risaputissima tecnica del foro nell'infisso. Invece da Fabriano strade Colabrodo iniziano i lavori, 13 cantieri per 800 mila euro quindi insomma Fabriano le cui strade versano in pessime condizioni il sindaco Santarelli dice abbiamo individuato i tratti maggiormente critici in centro e nelle frazioni però come vedete anche qui si parla di Natale, di alberi, di manifestazioni insomma è stato annunciato anche quello che accadrà su Fano insomma si incomincia a parlare di Natale ma lo sport ci porta su triste note Fano, questo è un guaio, Fano 0, Arzignano 2, la matricola conquista i tre punti e lascia l'ultimo posto in classifica ai Granata l'esordio di Ricciardi e le stelle di Parlati e Barbuti non bastano per evitare il quarto KO di fila Fontana dice non va niente bene il mister Emei a confronto con i tifosi all'uscita degli spogliatoi è un momento particolare, non mi ero esaltato neanche prima per quando ci sono stati dei buoni risultati e cerco di non deprimermi neanche adesso va così, insomma tra alti e bassi bisogna sempre essere con i piedi attaccati al terreno e ci tireremo fuori, una iniezione di fiducia per tutti quanti ci tireremo fuori da questa situazione la Vis però se il Fano piange la Vis non è che sorride tanto solito difetto, l'incapacità di rimontare le sconfitte dei Biancorossi contro le sconfitte di Parigrado si somigliano quindi diciamo che negli scontri diretti fanno sempre gli stessi diretti al di là delle sbadataggini difensive è il modo di attaccare che non convince quindi quando ci si scontra con squadre di pari livello bisognerebbe trovare lo spunto per fare lo scatto in avanti e anche il Carlino nelle pagine dedicate allo sport parla del Fano, un Fano disastroso e adesso è davvero crisi Alma umiliata dall'ex Cenerentola Arzignano e quindi che la spunta al Mancini e ora il Fano è all'ultimo posto anche nel basket non è che va molto meglio la VL non regge, ha un finale di fuoco altro KO e quindi Pesaro inizia benissimo inizia molto bene però poi si fa rimontare e staccare recupera ma poi cede nel momento cruciale quando la partita entra nel vivo troppo aggrappata a soli due uomini sì perché due uomini hanno fatto 50 punti in due sono Chapman e Bradford 50 punti in due ma poi dietro di loro c'è il deserto bene vi faccio vedere le due pagine di apertura per chi si fosse sintonizzato in questo momento o poco prima della rassegna stampa nel resto del Calino di Pesaro appunto si parla del sprofondo VL, della crisi nera della VL ma poi anche il salvataggio della mensa dell'Oda che ora c'è chi può salvarla c'è un salvagente che viene tirato a questa mensa cittadina e poi appunto si parla del calcio Fano crolla con l'Arzignano adesso è crisi nera e la VIS che commette le solite mancanze invece nel Corriere l'apertura è per il San Benedetto l'ex manicomio a Pesaro transennato e con strada anche poco messa in pessime condizioni quindi i residenti ora oltre ad essere senza parcheggi protestano perché si corra subito ai ripari ma anche qui la fotonotizia è per il Fano che la combina grossa perde in casa con l'Arzignano è 2-0-2 e anche la VL, KO, maglia nera in solitaria bene questa era l'ultima pagina che vi facevo vedere per la rassegna stampa del lunedì grazie per essere stati in nostra compagnia noi come sempre vi ricordiamo anche il nostro numero che vedete in sua impressione col quale potete entrare in contatto con la nostra redazione o farci le vostre segnalazioni benissimo questa sera occhio alla notizia e poi il consueto appuntamento del lunedì con Primo Cittadino benissimo, grazie e buon proseguimento di giornata a tutti voi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti